bello a tutti raga io sono thegamer792 voi siete dei camerini e oggi siamo insieme a salvo sono io jason che bello e niente allora salvo e jason e niente allora ecco alla e speriamo che non sono io il bello di questa roba è che siamo pure in pochi wow ecco qua speriamo che non sono io però quello che stai sentendo allora sento dei piccoli humorini io barico tutto ok ho visto una cosa molto molto allora ho capito che la mia vittima acqua ecco qua e capito che io sto qua e si perché perché il mondo mi vuole male non è giusta sta cosa ti ricordo che ho la percezione quindi posso individuarsi allora sei ancora dentro casa ucci 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 andrucci sei uscito di casa vero no 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 io qua muoio 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 a domenica sai boh boh ecco chi ti vede sei male perché mi devi vedere cioè che ti ho fatto di male dimmelo a te cioè che ti ho fatto che ti ha fatto sta povera cristiana non lo so ma perché io ho vabbè ci ho fatto dimmelo a te perché sì eh vabbè dai tanto chi se ne frega no allora uno due ok stai ancora contento e due e tre e quattro e cinque maledizione a te lo sai che è stata una passata vero? ehm si dove fai? boh ma non direi che si può più in giro a questa vera quindi ti ho visto ti ho visto ma dove fa un po' che fino a stai a fa' bro? eh guarda no perché c'è un gerson che mi sta inseguendo no non sei in tutta casa si ma non ma oh mio dio ti ho stordito manco senza volerlo ok grazie mille bravo chiudi lo sai che è stata una passata? ma perché io? allora ok io attivo la percezione ora vedo ora vedo ora vedo ora vedo ora vedo hu oh oh where would you fucking die? si? ho deciso di non scherzare perchè non vai a pigliare l'altro? che ne dici? mi hai fatto incazzare ecco qua ti pareva ah non pensavo che ci stavi per riuscire che bello sta molto che ansia anche quando sei oh tutte le abilità mo fra toccarsi ma buon salve ma buon salve ok vai ciappa 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 che tanto ti raggiungo ciappa che tanto ti raggiungo ulteriormente non la riesco a prendere fa caldo molto caldo allora ok raga che faccio non lo so cosa faccio le piglio o non le piglio le prendo o non le prendo no ma per me è meglio è meglio tenere queste queste cose che tengo già nel mio inventario per me ora aggiungo gli altri così almeno posso essere un po' più sicuro meglio compagnia che per ora non ha ucciso ancora nessuno e questa cosa mi fa molto felice che dici ho ucciso uno ecco qua non ti vorrei dire a mochi e ho visto quel tizio teneva una cosa per troppo lontano per troppo lontano teneva una cosa super importante vabbè dai me la voglio giocare da difficile voglio cercare di sopravvivere invece di chiamare e scappare con l'auto poi io allora voglio cercare però se trovo un'auto già riparata o se qualcuno viene con l'auto io ci salgo questo lo vedremo ma perché quello si sta toccando la parte bassa del corpo per in poche parole vogliamo via vabbè raga io lo seguo io lo seguo a uno che sta vicino alla barca bravo ho il cazzo di finito in me bravo me lo vado a scoprare questo oggetto non è un po' rimbandito forse oh non ci provare non ci tizio ma lo muovo io cosa si tizio non ci provare vabbè addio tizio ti ho voluto bene è stato scappando no dai vabbè ma non sto scappando allora io devo uscire tutto qua dai affrontami che hai il coraggio affrontami ci la posso fare io mi sto incazzando seriamente a un momento ho la rabbia ma perché vuole venire da me sto qui voglio voglio fare il solo trasporto tra me la mia che lo fa è po oddio vabbè sono super smirato ma dettagli dai che bello fra poco è la rabbia si ah senza la rabbia eh tu la senti non so se è incazzato non ci credo e me muori e me muori mi dispiace perché sappi che ha appena sfaunato tommy ma è morto no allora mi dici ora ora godo oh la rabbia che balle ti posso ti posso dare un un coso ti posso dare un dove sta uno ok ma giusto per informazioni personali allora uno si trova aspetta eh no non qui non dove sei tu chi ti ha detto di venire qui io eh tu tu non essere tu non essere Jason tu essere scassa minchie eh vabbè ciao e vabbè tu ovviamente logicamente ti devi trasportare logico ok l'hai voluto te e vabbè ciao ma beccati no ma lo sai chi è che 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 è eh lo so che l'ho fatta lo so lo so purtroppo lo so va bene sono in un posto hai fatto proprio una cosa bella ma sai che faccio ah vero non c'è bisogno che spacco bravo mannaggia sembro mi stai facendo più imbestialire lo sai eh purtroppo lo so broma guarda ce n'è uno no ce n'è uno in sta in sta casa in fk perché non te lo pigli ok sto arrivando da lui infatti eh no infatti vuoi me eh sì proprio da lui eh eh vabbè ciao è troppo tardi voglio uccidere le le in peggior modo aia 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 esci un po' il peggio di strane sempre a casa ma come cazzo me ne esco da qua eeeh qua dai mancavano quattro minuti in poche parole eh vabbè ok ok raga non siamo noi jason ma siamo già insieme che bello si però c'è jason da noi questa cosa a me non mi piace a te salvo no sta passando tra io c'è un'ascia eh io tengo un tubo allora io qui faccio l'ombra della batteria così almeno qualcuno di gentile può andare a riparare allora qui non ho trovato niente allora bro lo dobbiamo stordire lo dobbiamo stordire lo dobbiamo stordire e vabbè ciao bro bravo bro vai 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 l'altra casa io vado all'altra casa vabbè vai vai ti seguo ti seguo vai non chiudermi come quelli stronzi vai 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 bro tu controllare altre porte ecco devo barricare barricato ok 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 ho barricato tutto io controllo nei cassetti se c'è qualcosa concordo walkie talkie ma non serve no vabbè uh petardi ma c'è che petardi ok lancia gli oli wow la prima la prima volta che becco jason con i petardi vai però io me io me ne scappo ah bro io vado all'altro all'altra casa io me ne scappo completamente io me ne vado no no io vado all'altra casa che ho poca stamina ok io vado a questa casa vai bro chiudi te chiudi te si però che barrica le altre porte si fatto flair io ho bisogno di stamina quindi mi nascondo un attimo e france jason non ti vorrei e niente ma dai ma ci so aspetta però puoi respawnare come son i giard perché mi ha detto tu sopravvissuto e e sono morto ma io ti vedo ancora vivo io mi vedo morto cavolo c'è jason qua da me cioè io sono morto però mi ha detto tu sopravvissuto il tuo cadavere cavolo ho poca famiglia devo sperare ok ma hanno chiamato tommy c'è c'è io è come se sarei sparito dalla partita non mi vedo neanche più nella classifica questa cosa è strana cavolo c'è son da me mi sa hanno sa la da loro nasconditi nella tenda allora mi nascondo vabbè raga ci rivediamo quando se sarò sparato come termine io spero che il video vi sia piaciuto il video può finire qua quindi lasciate un pollicione in su iscrivetevi al canale attivate la campanellina per restare sempre aggiornati e tranquilli atlas con non ha smesso di fare gacha life io porto game io porto game e atlas con fa gacha quindi bella ciao Grazie a tutti.